Ben ritrovati dall'Ippodromo del Mediterraneo, andiamo ad analizzare già la prima domenica di Galoppo, 8 di dicembre alle 14.55, la prima delle sei corse in programma che avranno la corsa più attesa nell'handicap discendente sui 1200 metri in pista sabbia, il premio gotico riservato ai cavalli anziani. 67,5 kg per difenditi sono davvero tanti, forse gli specialisti Derogadora o ancora il duttile Marail potrebbero essere le valide alternative insieme ad un Excel Pride che in handicap si trova sempre bene, uno schema a lui congeniale, 56 kg in perizia potrebbero essere favorevoli e farlo diventare una valida alternativa. Ma su questa corsa sentiamo Gabriele Canarella Alfantino, è impegnato con Art of Dreams. Guarda, Art of Dreams ha un passato bello, però a Siravusa non ha dimostrato niente, Massarre se ritrova la forma che c'aveva a Corridonia può lottare e Marail che è un po' meglio di questi. Sorpresa? Excel Pride. L'apertura affidata alle ore 14.55 ha un handicap discendente, 2100 metri in pista piccola per il premio romantico 5 al via, Deister e Laprineide sembrerebbero per qualità e peso essere i due protagonisti della corsa, ma sentiamo Gabriele Canarella, voce fuoricampo che in mezzo si affida a Comodo. Comodo, il primo peso sarà meglio di questi. Gli unici che lo possono insidiare un po' sono l'Ingston Sassafras e Deister se è pesante. La seconda corsa è il premio Rococo, handicap discendente sui 1800 metri, si cambia tracciato, si va in pista sabbia per i tre anni, mai vista su questa distanza, questa categoria, con la doppia curva peraltro che potrebbe metterli in difficoltà. Carica ma discreta, con Chance, quindi il numero uno dello schieramento Madame Paco, le alternative Francis che ha corso bene all'ultima, negli ultimi metri si è vista allungare sugli avversari anche se poi ha tenuto una terza posizione. Fire with Fire e Master sono ancora impossibili avversari. La quarta corsa è una vendere sui 1900 metri in pista sabbia per i quattro anni oltre, il premio bizantino schiera il regolare Grey Caviar insieme al rientro di Wonduk. Attenzione, anche la sorpresa potrebbe essere fatta da Mr. Boomer. La quinta è una reclamare sui 1200 metri in pista piccola, i quattro anni oltre si affrontano nel premio Rocco, sono sei soggetti al via. La base della corsa potrebbe essere il numero 4, My Sexy Week, penultima vince, l'ultima è in pista sabbia, perde male, quindi davvero buona la forma. Le alternative Checco e St. George Cross. La sesta corsa invece è la chiusura alle 17.45, in handicap principale, Miglio in pista grande per i quattro anni oltre. Una categoria dove tutti comunque possono acquisire una piazza, non corre il numero uno dello schieramento. La perizia parte da Martin Blond, ben comportatosi con una seconda piazza nell'ultima sua performance. Alterno all'Asso dei Kraken, le alternative forse Peace and Love e Ground Attitude. Ne parliamo con Gabriele Canarella. L'Asso dei Kraken è molto alterno, sta correndo una settimana, ci riproviamo perché la volta scorsa il cavallo non si è impegnato. Come si doveva fare. Gli avversari? Martin Blond è l'ultima e seconda dove lui non si è piazzato e poi a me piace tanto Pise e Love. Sorpresa? Ducco Frumba. E con questo è davvero tutto, io ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona ippica.